Musica, libri, spettacolo sono i contenuti degli appuntamenti in giardino, manifestazione promossa dalla Biblioteca della Regione, che torna dal 19 al 28 maggio nel cortile interno di Palazzo Sormani, in piazza Solferino a Torino. Il programma, realizzato in collaborazione con i Centro Studi Piemontesi, prevede anche per mercoledì 10 giugno l'inaugurazione della mostra Torino Internazionale, le grandi expo universali tra 8 e 900.